Ci sono dei luoghi dove non si possono ospitare le persone, ci sono persone che vanno messe in sicurezza e bisogna aprire le vie legali. Le vie legali ci ha dato una lezione, in questo caso la comunità di Sant'Egidio, insieme alla CEI e ad altre organizzazioni che hanno portato in sicurezza le persone con i corridoi umanitari. E' un po' quello che chiede il Santo Padre ed è l'unica via per salvare le persone. L'Europa sta facendo qualcosa, può fare molto di più, perché parliamo di numeri in fondo assolutamente gestibili. Tutto quello che in fondo sentiamo sull'argomento, un'invasione, una guerra di religioni, non è assolutamente così se si guarda alle dimensioni del fenomeno. Innanzitutto non è una guerra di religioni, questo c'è da dire. L'abbiamo visto anche dalle testimonianze come cattolici e musulmani insieme possono convivere tranquillamente. Diciamo che l'obiettivo è quello di raccontare delle storie, evitare di parlare di questo fenomeno attraverso i numeri, che è quello che facciamo generalmente. Noi abbiamo sempre cercato di raccontare delle storie parlando di persone e facendo vedere dei volti e raccontando delle storie personali per capire prima noi e poi chi ci ascolta, chi ci guarda e chi sono queste persone e perché stanno arrivando, qual è la ragione che li spinge a rischiare la vita e a volte a morire per riuscire ad arrivare nel nostro continente. Questa mostra è un po' la sintesi tra giornalismo e arte, perché poi il progetto espositivo è fatto da un gruppo di videoartisti che si chiama Studio Azzurro, che sono dei fenomeni, sono da decenni una firma importantissima nei musei italiani. Racconta uno dei fenomeni più drammatici della storia mondiale degli ultimi secoli, quello dell'immigrazione, con una capacità e anche con una incisività nella mettere insieme tanti punti di questa storia, in una emblematica capacità espositiva che fa molto onore a chi ha voluto organizzare questa mostra e anche a chi ha voluto ospitarla per la prima volta in Basilicata, in un itinerario che io spero possa toccare molte parti del nostro paese per far capire veramente di che cosa si tratta il fenomeno migratorio nel nostro pianeta e nel nostro continente.